Dice Rav, noi riceviamo il potere per poter continuare solo a condizione che noi impariamo dai testi che i kabbalisti hanno scritto per noi e lo facciamo proprio quando siamo connessi nelle decine, fino a che noi non ci connettiamo nella decina in modo corretto e studiamo i testi corretti, allora noi possiamo elevarci a un livello, cioè non è solo il tempo, ma la condizione per poter raggiungere il livello corretto è essere connessi nella decina e studiare in modo connesso i testi corretti che sono Rabbash e Balasulam perché tutti gli altri kabbalisti, nonostante fossero molto grandi, noi non riusciamo ad imparare molto da loro Io ho imparato, ho studiato il Ramchal con il Rabbash, sicuramente ci sono altri autori, ma la questione è che non so se noi siamo capaci di imparare quello che loro hanno scritto, per noi i testi adatti a noi sono quelli di Rabbash e Balasulam e quando noi studiamo in questo modo, insieme, in una decina connessi, o anche in varie decine connesse in tutto il mondo allora noi attraverso questo attiriamo la luce per riforma, la luce superiore grazie